Sicilia Scuole vi consente di diplomarvi in vari indirizzi scolastici, tecnico commerciale, tecnico per geometri, tecnico nautico, tecnico agrario, professionale ottico, professionale odontotecnico, professionale servizi sociali, liceo delle scienze umane, liceo scientifico, liceo classico, liceo linguistico, liceo musicale, liceo sportivo ed inoltre alberghiero, IT e sistemi informativi aziendali, IT elettronica, IT informatica, IT meccanica, ERAP, Viale Leonardo Sciascia, 232, Villaggio Mosè, Agrigento, ERAP dal 1996 La vita si misura in momenti Momenti dove l'anima incontra i sensi e l'istinto si risveglia Tu La polvere E le emozioni di tracciare la tua strada E poi un'altra E un'altra ancora Non ci sono limiti E la tua storia scriverà ora Audacia Azione Avventura Libertà Suzuki 4x4 Fuori dai luoghi comuni Suzuki Pietro, Giorgio, la merenda C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini Un formaggio che col suo animo raffinato rende speciale ogni occasione Un formaggio che col suo carattere un po' piccante piace ai nostri nonni Ragusano DOP Oggi come ieri mette d'accordo tutti Finestre Eclipse La grandezza del minimalismo Più luce è la tua casa con le finestre Eclipse Eclipse Finestre eco sostenibili ad alte prestazioni energetiche Chiedi Eclipse al tuo serramentista di fiducia o visita Eclipse.it Finestre Eclipse La grandezza del minimalismo Ben trovati amici l'appuntamento con l'informazione di Telebrea sul canale 89 Avete visto che belle giornate Questi ponti di primavera lo abbiamo già segnalato Non sono stati molto clementi dal punto di vista meteorologico Vento forte il mare in pratica davvero impraticabile E chi è andato per mare lo sa Per esempio ieri il collegamento da Malta per Pozzallo è stato abbastanza problematico O meglio è durato molto Non c'è stato pericolo Però invece di un'ora e mezza Tre ore e un quarto Insomma capite che non è stato divertente Molto vento lungo tutte le coste del canale di Sicilia Di meno nella zona dello Ionio Non piove Ma sembra che comunque nei prossimi giorni Forse un pochino di pioggia lo farà anche da noi Ma il tempo non sarà buono come vorremmo Naturalmente quando c'è molto vento Da noi scoppiano gli incendi Ormai è un fatto consolidato Con il vento scoppiano gli incendi Che sono anche abbastanza preoccupanti Ci arrivano le immagini che sono state mandate dalle squadre dei vigili del fuoco Che stanno operando sul territorio Vi devo dire che la cosa più preoccupante è il rumore Qui non lo sentite Ma il rumore fa davvero paura Perché sta bruciando un canneto Non è che stia bruciando qualcosa di particolarmente importante Però capite che è molto preoccupante Molto rischioso avvicinarsi e quindi si controlla Questi incendi ce ne sono tre o quattro in tutta la provincia Sono stati richiesti dai vigili del fuoco Interventi di altre squadre da Palazzolo Ma anche l'intervento degli aerei Perché continuando questo vento è difficilissimo fermare gli incendi Ora io qualche giorno fa abbiamo detto che la squadra dei forestali Non sappiamo a che punto è Però sarebbe importante considerare che in questa stagione Se non c'è chi controlla si rischia di fare un falò molto grande Comunque sempre in bocca al lupo ai nostri vigili del fuoco Abbiamo parlato la settimana scorsa Del problema delle case di Pozzallo Vi ricordate quelle palazzine Ne vedete una ma sono un po' tutte Sono 48 famiglie che abitano in questi appartamenti Che a un certo punto sono state Praticamente c'è stato fatto l'ordine di sgombero Perché c'è l'ordine di sgombero di andare via Perché addirittura sembra che queste case siano pericolanti Che siano state fatte con cemento depotenziato Ammalorato E quindi sono rischiose E come avete visto c'è stato polemiche Proteste in piazza Incontro allo IACP In cui si è parlato di cosa fare Il presidente della regione Sabato ha mandato un comunicato In cui ha detto Stiamo valutando La possibilità di pagare noi La regione Gli affitti e i traslochi Per le famiglie che sono costrette ad andare via Anche lì mica è uno scherzo Un affitto per 50 famiglie Capite che cosa vuol dire Si parla di centinaia Di migliaia di euro in un anno Quindi la cosa è abbastanza Come si dice difficile Considerando I allusci Come si dice I chiari di luna Lusce luna Che ci sono In questo momento Alla regione Ma anche in tutti i comuni Però Oggi è arrivata Un'altra notizia Questa notizia Ce l'ha data L'onorevole Campo Che dice che però Cocina Che sarebbe Il capo Della protezione civile Della Sicilia Ha detto Calma Non è che Ci siamo Sicuri Di questa Condizione Così precaria Stiamo cercando Di valutare E anzi Chiediamo A prefetti E comuni Di fare Indagini Più approfondite Proprio per Scongiurare Ogni pericolo E quindi Al momento Io direi Dice Cocina Di Diciamo Cotrasennesce Però E' chiaro Che non ha detto Ve ne dovete andare Tutti Quindi molto rumore Per nulla Io ho titolato Un articolo Su Reteblea Proprio così Molto rumore Per nulla Cioè Abbiamo fatto Tanto schifio E ora dice No Possono stare C'è però Una cosa Che è preoccupante Perché Il sindaco Di Pozzallo Che ho Chiamato Per telefono Chiedendogli Di fare Una Di una Dicarazione Ha detto C'è no Io Dicarazione Oggi Non ne faccio Perché Non ne faccio Perché Attenzione Cocina Che sarebbe Appunto Il responsabile Della protezione Civile Siciliana Non è che ha detto Ritiriamo L'ordinanza Di sgombero Praticamente Ha fatto A scarica Barile Dice Io Secondo me Tutto questo Pericolo Non c'è Però Non ha detto Io come protezione Civile Vi dico State Tranquilli Alle vostre Case Allora Siccome si tratta Chiaramente Di 250 Di 50 famiglie Che bisognerebbe In qualche modo Trovargli Delle Soluzioni E non sarà Facile Vi rendete conto A parte che poi Uno A casa sua Nelle sue Comodità Nel suo mondo Viene Anziani Disabili Vengono Sbattuti Da qualche Altra parte Allora La cosa migliore Sarebbe Fare Davvero In questo momento Una specie Di unità Di crisi Che faccia Immediatamente Vuol dire Già Da domani I rilievi Che servono Fare Quello Che si fa In questi casi Non lo so Ci vorranno Dei sondaggi Bisognerà fare Delle prove Prove Antisismiche Però Credo che sia La cosa Più importante Dice Mentre c'è La gente dentro Ma si elimina Il discorso Di mandarli via E poi Vedere Perché Voi sapete Che nulla È più certo Del precario Dalle nostre parti Ci sono precari Che sono stati 50 anni Precari Quindi ti immagini Mandate la gente In un altro posto E quelle Prima che torneranno A casa Davvero Ci vuole Possono Crollare Le case Quindi Questa è la situazione Reale In questo momento E io vi dico Le cose Come stanno L'informazione È questa Coce È pubblicato Sul rete iblea Coce L'ha detto Non è Non è Certo Prima verifichiamo E poi ne parliamo A matuna Però ha detto Non mi hanno detto Di ritirare L'ordinanza Di sgombro Quindi Che devo fare Io quasi quasi Provvedo Questa è la situazione Perché l'informazione Oggi No È un'informazione Che viene data Da migliaia Di fonti C'è Basta avere Un telefonino E un sito web E uno può Dire tutte le cavolate Che vuole Che per giunta Viene anche preso Come si dice Sul serio No Lasciando da parte La situazione Dell'intelligenza Artificiale Avete visto Per esempio I grandi Big Lo stanno In qualche modo Segnalando Vi capita Sul Sul vostro Telefonino La fotografia Di un attore Famoso Di un conduttore Televisivo E dice Ah io Ho scoperto Come si può Guadagnare 50.000 euro Al giorno Io l'ho fatto Subito La RAI Mi ha detto Di non parlare Quello l'ho fatto Con l'intelligenza Artificiale E' un trucco E' una cosa Che non va Assolutamente bene Però come facciamo Ad accorgercene Questo è uno Degli argomenti Di cui si è parlato Oggi Alla provincia Di Ragusa Nella sala Conventi Della provincia Di Ragusa Ospite Il presidente Dell'ordine Dei giornalisti Bartoli Presidente nazionale Dell'ordine Lo vedete qua Insieme anche al collega Antonio Recca Che fa parte Della Segreteria Della Sostampa Ecco il tema Era proprio questo La figura Del giornalista Oggi Come oggi Ma sapete Cosa Di cosa Mi rendo conto Io No Che è come E' sempre una battaglia E' una battaglia Fra il giornalista Che è un dipendente E che quindi Ce l'ha a morte Con l'editore Perché è pagato male Ce ne sono Alcuni sono Strapagati Però quando è pagato male La colpa è Dell'editore 5 euro a pezzo E qua E là Allora Io dico Questo Io sono un editore Ma sono un giornalista Ma siamo un editore Sono un editore Per finta Nel senso Che noi siamo Una piccolissima Realtà Ma voi pensate Che se L'editore Avesse La possibilità Economica Perché Bisogna fare Il conto Quello che entra E quello che Serve per Pagare Tutto Quanto La struttura La cosa E se l'editore Potesse Dare di più Io sono sicuro Che lo farebbe Sono sicuro Che lo farebbe Molte volte Scluso I grandi Giornali Gli editori Addirittura Ci rimettono I loro soldi E poi diciamo Ci pagate tanto Ma se non Volete farlo Non c'è problema Se uno Non vuole scrivere Per 5 euro A pezzo Come fanno Nei giornali Come la Sicilia Come gli altri L'hanno detto loro L'hanno detto loro Se non volete Essere pagati Per 5 euro A pezzo Lo scrivete Che problema c'è È così semplice Allora Il problema È che invece Bisogna Rivedere Questa figura Del giornalista Alla luce Di quello Che accade Oggi Perché Basta Pensare Che Io mi posso Ammazzare Posso fare Quello che voglio Poi arriva uno Che c'ha un gruppo O c'ha 500 followers 5.000 followers 25.000 followers Ed è Praticamente Può dire Tutte le cazzate Scusate Che vuole Perché ci sono 25 30 40.000 persone Che lo seguono Poi può fare La pubblicità Al pesciaro Può fare Quello che vuole Senza Pagare Niente Senza Versare Contributi Senza Avere Neanche una sede Senza niente E poi Tutti invece i problemi Sono del giornalista Che può essere Querelato La professione Del giornalista E come diceva Montanelli Una volta È la più difficile Che c'è Ma è sempre meglio Per lavorare Questo lo sanno tutti Ma è anche vero Che oggi Bisognerebbe Rifondarla E pensare Che non sono In guerra Gli editori E i giornalisti Perché oggi Spesso Sono la stessa cosa Perché oggi C'è molta gente Che si autoproduce Ma aiutiamoli tutti E soprattutto Combattiamo Contro queste Difficoltà Che abbiamo un po' tutti Io saluto gli amici Di Palermo Dalla mia mittende Ma io Arrivare a Palermo Non avevo Tutta questa voglia No? Perché capisco Cosa vuol dire Essere conosciuti A Palermo Ci vuole Redazione Compagnia bella Che non abbiamo E quindi A che serve Spendere questi soldi Ma li devo spendere Per forza Allora Sentiamo Bartolo Il presidente Una piccola Riflessione Sulla professione Giornalistica Vediamo Una professione Non solo bellissima Ma è indispensabile Senza informazione Muore la democrazia Muore questo paese Ma voglio dire Che non si tratta Solo Delle grandissime realtà Dei grandissimi dibattiti Ma anche Della realtà Delle comunità Cioè Se le comunità I comuni Le province Non hanno una voce Che le rappresenta Che le dà identità Che racconta Ciò che avviene Muoiono Perdono appunto La loro identità Quindi Quando noi diciamo Che ci vogliono più risorse Per il pluralismo E date meglio Diciamo che Chi racconta La realtà Di ogni Di ogni situazione Specifica Deve avere la possibilità Di continuare a raccontarla Perché è un bene Fondamentale Come l'acqua Come il cibo Come l'ossigeno Però questa è una domanda Particolare Presidente Vale di più Un giornalista Che magari Scritto all'ordine Da 20, 30, 40 anni O uno che ha 10.000 followers Perché Scrive Di cucina E però Conta Beh Non può essere Quella l'unica misura Anche perché poi Come abbiamo visto Certi personaggi Possono anche avere Delle cadute rovinose Ma io non voglio Poi riferirmi Tanto a questo Quanto alla funzione Perché voglio dire Un attore Un cantante Mi danno qualcosa Di importante Un momento di svago Di piacere Informazione è un'altra cosa È più seria Mi dice Come mi posso curare Di chi mi posso fidare Se devo pagare le tasse Come le devo pagare Cioè mi dà le informazioni Per vivere Questa è un'altra cosa E quindi Non deve essere Né simpatico Né carino Né ammiccante Ma deve essere competente Ci sarà ancora quindi Il giornalista Nel futuro Penso che Se non dovesse Essereci più Sarebbe un disastro Per la nostra società Io non ci voglio pensare Noi non ci voglio pensare Grazie a tutti. E allora avete sentito il Presidente nazionale dell'Ordio dei giornalisti che, attenzione, questa è una cosa interessante, ha deciso di comprare casa qui in provincia di Ragusa perché gli piace. Quindi questo è un altro segnale di questa grande, posso dire, simpatia che molti italiani hanno per la nostra provincia, in questo caso è modica, ma tanti per Marina di Ragusa. Addirittura Marina di Ragusa viene considerata una delle mete turistiche nelle quali c'è maggiore richiesta di acquisto di case. Se io avessi una casa a Marina, siccome tutte, seconde, terze, quarte case, ma venisse perché ci si può fare davvero i soldi. Ma mettiamo da parte la professione di giornalista, che vi posso dire che è una professione bellissima, ma oggi molto, molto difficile, come quella dei sindaci. Perché dico questo? Perché ieri c'è stata a Catania, alle ciminiere, la Kermes, direi davvero un appuntamento regionale dell'UMPRI, l'Unione delle Proloco, il Comedato regionale, che è riuscito davvero a portare alle ciminiere centinaia di persone, ma anche deputati, assessori, tantissime personalità, tutte a testimoniare l'importanza delle Proloco. Lo scopo delle Proloco è quello di intervenire nell'ambito turistico a supporto delle amministrazioni comunali, a supporto dei sindaci, a supporto anche di tutte le organizzazioni turistiche per aiutarle nel fare, che vi posso dire, itinerari e compagnia bella. E quindi devo dire che è stato sancito, certificato questo ottimo momento delle Proloco, che devo dire dipende proprio da questa persona che vedete, da Nino Laspina, presidente nazionale delle Proloco siciliano, presidente della Proloco di Sant'Affio, o comunque viene dalla Proloco di Sant'Affio, è stato riconfermato presidente regionale, e ieri c'è stata tutta una serie di appuntamenti per la migliore sagra, per il migliore filmato, per le migliori degustazioni, che come vedete poi sono state, come è giusto che sia, ogni volta c'è sempre lo schiticchio finale, e ci sono delle cose molto buone, ragamuto, ma c'era chiaramente ogni provincia, aveva il suo stand con prodotti del territorio, buoni, buonissimi, oli, vini, arancine, pane, cunzato, tutto c'era naturalmente, per far capire a tutta l'organizzazione che le Proloco sono una grande realtà. Bene, a questo punto però, fermiamoci, torniamo un attimo alle immagini delle Proloco, c'era tra l'altro l'assessore al turismo amata, e questo ecco era l'appunto che facevo io, l'assessore diceva che oggi fare il sindaco è faticoso, ma è meglio che lavorare, è un po' come i giornalisti, fare il sindaco è chiaramente una cosa di grande impegno, in quelle realtà dove fare, dove non ci sono soldi, non c'è personale, non c'è organizzazione, perché molti comuni sono così, ma non per colpa loro, perché mancano i soldi, non c'è il personale, non puoi fare i servizi, non puoi fare le cose, pochi sono i comuni che possono vantarsi, come quello di Ragusa, senza offesa, che poi lì bisogna anche vedere col sindaco, come quello di Ragusa che dice che invece va tutto bene. L'assessore amata ha invece nel suo discorso parlato dei sindaci, ringraziandoli per il lavoro che fanno, e ringraziandoli anche naturalmente la Proloco. Questo intervento, tre minuti, dal palco, l'assessore amata. Presidente, potrei evitare di fare il mio intervento perché sposo appieno quello dell'amico Mario, segretario generale dell'Anci, perché Mario dice, intanto un saluto particolare ai sindaci che sono presenti, che io definisco degli eroi. Ieri sono stata in un paesino della mia provincia, 1200 anime, e dicevo al sindaco che ogni giorno è sul campo, è in trincea, solo amore e passione ti può fare dedicare a questo lavoro enorme, pieno di criticità, altro che l'ostacolo quello. Gli ostacoli che superano ogni giorno, i nostri sindaci sono davvero importanti, lo fanno con amore e passione, lo stesso amore e passione che condiziona ogni giorno il mio lavoro. Io l'ho sempre detto, Antonio, e l'abbiamo fatto sin dall'inizio, per me la sinergia, il lavoro di squadra sono fondamentali, perché gli sforzi che può fare, che fa ogni giorno il mio assessorato, dal dipartimento all'ufficio di gabinetto, alla mia stessa persona, risulterebbe nullo se noi non avessimo poi sui territori lo stesso tipo di aiuto, di supporto, la stessa propensione a fare insieme e lavorare insieme. Stiamo lavorando su diversi fronti, perché oggi dobbiamo parlare non di turismo, ma di turismi, nel senso che il turismo, che è la vera industria di qualsiasi regione, cioè quella che può creare sviluppo economico e soprattutto generare occupazione, viene declinata in diversi modi. Abbiamo il turismo enogastronomico, ne abbiamo parlato e abbiamo un appuntamento importantissimo nel 2025, abbiamo il turismo delle radici, abbiamo il cineturismo, l'hai citato tu Pocanzi, abbiamo diversi modi di portare e di diventare attrattori turistici e lo stiamo facendo. Io portando le azioni che vengono dal territorio, le portiamo alle siere, partendo dalla BIT che è il primo appuntamento, l'appuntamento più importante, ma anche poi a livello internazionale. Io di recente sono stata a New York, al Consolato, dove abbiamo incontrato, intanto abbiamo fatto una giornata di incontri tra i nostri tour operator e quelli americani ed è stato davvero importantissimo perché c'è un grande interesse da parte di questo mercato americano di venire in Sicilia. Viene individuata la Sicilia ormai negli ultimi due anni, davvero il mercato americano è aumentato il 150% e a cosa lo dobbiamo? Al cineturismo, a The White Lotus che ha creato un interesse incredibile. Insomma, l'assessore ha detto quello che era giusto si dicesse, però ha fatto anche delle considerazioni che non mi sono piaciute molto, come per esempio questa storia del Sissisili. Ora sta accadendo che c'è una crescita del turismo dalle nostre parti che io credo che non sia frutto dello straordinario lavoro che è stato fatto nel passato col Sissisili, che ne abbiamo spesi soldi che poi sono serviti a ben poco, ma la verità è che sta accadendo un fatto che la gente riguarda di nuovo al proprio territorio e diciamo a livello italiano sono moltissimi quelli che vogliono venire in Sicilia perché magari con la Ryanair, che gli faccia pubblicità, ma quelli non ne hanno bisogno di pubblicità, sono andati a Billung che è là nello Jutland con 15 euro e poi sono andati lì, che cazzo loro l'hanno fatto neanche loro lo sanno. E finalmente hanno capito che invece venire in Sicilia dove c'è il 35% dei beni culturali di tutta l'Italia quindi vuol dire che qualcosa vale, no? Allora hanno scoperto questo, anche all'estero hanno scoperto questo, come Malta, come la Sicilia, la gente cerca posti caldi con tante cose da vedere dove si mangia bene, a Malta lascia stare il mangiare che è un'operazione abbastanza, come posso dire, a me che non vanno riuscire in un ristorante italiano, ma te le danno legnate. Vabbè, quindi devo dire che il turismo cresce non certo grazie all'aeroporto di Comus, all'aeroporto di Catania, perché anzi quelli secondo me sono dei tasselli che si gonfiano smoderatamente per quanto riguarda, grazie appunto ai turisti, ma sul territorio si pensano solo a loro e basta. e si capisce per il fatto che per esempio a Comus o i voli sono sempre quelli, non è cambiato. Detto questo ci spostiamo a Ragusa, per un attimo facciamo riferimento al turismo, perché oggi è stato presentato un servizio di car sharing, praticamente si tratta di due auto che sono state messe a disposizione in collaborazione con una casa automobilistica, rosso-crinite, come si vede, che hanno un posteggio particolare in Corso Italia di fronte alla cattedrale, al lato della cattedrale e queste auto praticamente si possono affittare, insomma come con le biciclette, come con i cosi velocipedi là, per un prezzo di 6 euro l'ora oppure di 40 euro al giorno. Vi devo dire che 40 euro al giorno è una bella cifra, perché se voi andate in qualunque affittauto, la danno per 40 euro, con tutta l'assicurazione e tutto quanto, e non hai la preoccupazione di riportarle nello stesso posto. Io non so se il servizio ce n'era bisogno da noi, me lo chiedo, secondo me no, perché già il territorio è così pieno di possibilità, stanno crescendo, ora lo sentirete, che non ce n'era bisogno, anche perché ci sono persone che svolgono un lavoro in questo settore e che così lavoreranno sempre meno. Ora dice, ma sai l'innovazione, va bene, io vi ricordo che qualche anno fa, questa storia dell'innovazione quando arrivarono i centri commerciali, vi ricordate? Noi l'avevamo detto, guardate che con i centri commerciali molti perderanno il lavoro, le aziende, e disse, ma l'innovazione, che possiamo fermare il futuro, che possiamo fermare il progresso, e io sono d'accordo, fermiamo il progresso, anzi non fermiamo il progresso, ma lasciamo tanta gente che non lavora. Quindi su questo io ci penserei. Questo servizio a me sembra che non ce n'era tutta questa necessità, oltretutto probabilmente in fase sperimentale, ma non c'era tutta questa necessità, a chi giova non lo sappiamo. Invece a chi non giova, siamo sicuri di questo, sono i tassisti della città di Ragusa. Ne abbiamo uno in studio, vediamo. E allora cerchiamo di affrontare bene il problema della mobilità alternativa o tradizionale in una città come Ragusa. Con noi c'è Carmelo Mallia che rappresenta un po' di tassisti nella nostra città. Allora, Carmelo, prima di tutto diciamo, quanti tassisti ci sono in questo momento nella sola città di Ragusa, perché poi il problema provinciale è un altro. Sì, buonasera a tutti, siamo in 14. 14, però mi dici che ce ne saranno ancora. Ce ne saranno ancora perché da poco è scaduto il bando comunale con la possibile assegnazione di altre 11 licenze, quindi per un totale di 25. Di 25 licenze. Ora dimmi una cosa, io non dico che vi girate i pollici, però pare che non ci sia tanto lavoro. Beh, la fase invernale sicuramente è la più dura da affrontare. In estate diciamo che lavoriamo e andiamo avanti, ecco, giustamente. Però si lavora solo con i turisti? Naturalmente sì. Ecco, si lavora solo con i turisti e il fatto che ora siete 25 può pregiudicare o secondo te più ce ne è meglio è? Beh, sicuramente la fetta da dividere sarà per 25 e non più per 11, quindi i conti li faremo a fine anno, come sempre, valuteremo poi di conseguenza. E quindi tutto quello che invece c'è intorno, diciamo, ecco, questi nuovi servizi, i bus, le navette, voi come le giudicate? Beh, sicuramente sono cose che a Ragusa, per la città che è, la capienza del territorio, sono forse eccessive. Eccessive. Perché, ecco, aumentando il numero dei tassisti, aumentando il trasporto pubblico che a breve farà dei nuovi collegamenti, grazie ai treni trasporti, mettendoci tutti i monopattini, i bici elettri, e adesso anche il car sharing, sicuramente buona fascia del turista avrà molte alternative. Quindi, da parte nostra, c'è tanta preoccupazione, quindi stiamo qui a vedere, sperando nel bene. Ecco, però, vediamo come si svolge questo servizio, no? Perché, sì, ci sono le navette, quanto costa per una persona che vuole prendere il tassi, perché è a Ragusa Superiore, e c'è ora vado a mangiare la pizza Ibla, e chiama il tassi. Che succede? Sono delle tariffe fisse comunali a 15 euro, quindi da uno fino a quattro persone pagheranno sempre 15 euro. 15 all'andata e 15 al ritorno, però. Certamente. È giusto. Quindi quattro persone, 30 euro, 7-8 euro ciascuno. Per i ragusani forse è un po' troppo, che dici? Forse è eccessivo, però se si pensa all'alternativa di non usare la macchina, venire a essere presi a domicilio, porciati fin davanti, una porta a porta, la comodità ha il suo prezzo, ma ha anche la sua convenienza. Molti ragusani hanno paura ormai di scendere a Ibla perché c'è la ZTL, perché non trovano il posto, perché lasciano la macchina e la portano via il carroattrezzi. Tante e tante volte ne abbiamo portati noi per recuperarle all'azienda artigianale. Quindi sì, per noi è lavoro, però a discapito del povero ragusano, anche turista, che non capisce la segnaletica a volte. Sì, però ecco, cosa potreste fare voi per combattere, sempre nel senso della libera concorrenza, del servizio migliore? Cosa si può fare? Per esempio per invogliare il ragusano, non so, si potrebbe fare una tariffa speciale per i residenti? Sicuramente si può fare qualcosa per il locale. Magari ci dovreste pensare un altro? La stiamo già valutando, perché tramite i radiotaxi stiamo aprendo altri orizzonti e quindi siamo molto propensi anche a divulgare la cosa anche al locale, non solo al turista. Magari uno in un certo orario gli può fare, per andare giù a Ibla si può scendere la tariffa, perché se non sbaglio una volta è la 10 euro. Sì, adesso da marzo c'è stato questo aumento. Però questo vuol dire un aumento del 50%, non è che… Purtroppo ci siamo dovuti adeguare al territorio, perché l'inflazione c'è stata in questi anni, erano tariffe ormai obsolete di più di 11 anni, quindi purtroppo il Comune peccava in questo. Noi abbiamo fatto tante richieste durante gli anni e adesso finalmente da marzo è stato approvato questo nuovo tariffario con regolamento. Sì, però il Comune vi approva il tariffario, però quando voi gli dite che forse le licenze sono troppe, non vi hanno detto niente. Purtroppo no, perché fino a 25 taxi sul Ragusa in base agli abitanti è possibile avere 25 taxi. Però c'è il rischio, diciamolo, che stiamo di più con le braccia concerte, no? Purtroppo sì. Perché abbiamo un video, è un video, come si dice, amatoriale, no? Abbiamo un video che fa vedere tutti i taxi in via, perché poi state lì per un bel po'. Sì. Ecco, questi sono i taxi di Ragusa, posteggiati… Diciamo che queste sono le giornate classiche invernali, comunque primaverili fino ad aprile-maggio. Ecco, questa è la situazione, tutti i taxi fermi, uno in taxi parte forse una volta l'ora, perché generalmente arrivano i parenti, arriva la struttura che si prende il turista e lo porta fin dentro e quindi restiamo lì a guardare. E quindi bisogna fare proprio questo, un po' di lavoro in più per invogliare i ragusani. Però, ecco, andiamo a vedere, anche ormai stiamo facendo questo spot promozionale per i tassisti, che sono una categoria importantissima, in una città dove in realtà non li usiamo tanto, siamo un po' tutti colpevoli. Ecco, però noi abbiamo il fatto che se uno deve andare a Catania, per forza il tassi ci vuole, ma quanto costa più o meno, non so se vi vuoi dare, o avete delle tariffe standardizzate? Per gli aeroporti abbiamo le tariffe standard, quindi tariffe fisse, per l'aeroporto Comiso 45 e l'aeroporto Catania 150. 150, quindi anche quello è un po' aumentato, però mi dicevi che praticamente da Catania costa di più. Sì, perché per loro vanno in terre sconosciute, perché quando uno di Catania dice, mi devi andare a Ragusa, madonna mia! E l'ultima cosa, allora, su questo che penso sia importante. Voi cosa ne pensate dell'autostrada? Insomma, per voi sarà... Beh, l'autostrada sicuramente per arrivare a Siracusa è molto più comoda adesso. Sì, ma quindi aspettate che si farà la Ragusa a Catania? Magari, sarebbe un sogno. Ecco, voi per esempio quando dovete andare a portare uno all'aeroporto, che tempi dite? Per esempio, partiamo tre ore prima? Sì, generalmente sì, mettiamo un'ora e mezza di strada, più un'ora e mezza sempre per depositare le valigie, insomma, all'aeroporto per il cliente. Ecco, questo è un po' quello che dicevamo l'altra volta al signor Torrisi, no? Che se già tu mi dici, vieni due ore prima, più due ore e mezza dobbiamo venire noi, cioè se io devo partire alle 10 del mattino, devo partire alle 5 del mattino, mi pare un po' troppo. Infatti voi spesso vi alzate presto, no? Perché è il momento più scomodo. Va bene, allora questa è una cosa diciamo che interessante. Il servizio che è stato in qualche modo presentato, certamente è un servizio evolutivo, però io credo che dovremmo anche vedere chi lavora sempre in questa città e svolge il suo servizio. Quindi chiudiamo facendo un appello ai ragusani, usate un po' più i tax, però anche voi fate un sistema per poterli utilizzare meglio. Certo. Va bene, allora grazie Gammelo Mallia, responsabile rappresentante dei tassisti ragusani, vedremo come si svolge se 25 tassisti riusciranno almeno a sbarcare il lunario. Grazie, andiamo avanti col telegiornale. Grazie a tutti. Dona il tuo 5x1000 al Centro Risvegli Ibleo Onlus. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un importante progetto per la nostra provincia. Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai bisogni delle famiglie che vivono il problema di parenti in coma o in stato di minima coscienza. Scrivi nella tua dichiarazione il codice fiscale 9203 1160887. Questo è quello che pensano i tassisti della città di Ragusa. Attenzione, come dicevo prima, è chiaro che le innovazioni si devono in qualche modo prendere in considerazione, ma probabilmente quando a Ragusa ci sarà un buon servizio di pullman, già abbiamo questi potorini qua, questi calacipedi che lasciano da qualunque parte, è anche brutto nella città, io credo che sia più che sufficiente. Di questo forse non ce n'era bisogno. D'altra parte dobbiamo dire che a Ragusa in bicicletta non si va con grande tranquillità, perché effettivamente andare in bicicletta non è una delle cose più facili in città, poi a Marina è tutta un'altra cosa. E allora, torniamo ancora a parlare del Comune di Ragusa, perché oggi c'è stato Consiglio Comunale, che però, almeno al momento di andare in onda, prima delle 21, di registrare il primo telegiornale, era in sospensione per mancanza del numero legale, perché poi, voi sapete, c'è qualcuno che esce, e mancavano alcuni consiglieri, e uno diceva come mai mancano quelli, quelli che, diciamo, i tre che sono un po' sempre distaccati dalla maggioranza, ma sono dentro la maggioranza. Mancavano alcuni, per cui il Consiglio Comunale oggi ha avuto qualche difficoltà, ci sono state delle richieste abbastanza chiare, per esempio, sul problema dei compatibili, o gli incompatibili, per quanto riguarda il voto per il piano regolatore, però il Sindaco non ha risposto su questo, e quindi siamo rimasti un po' a capire, forse ancora stanno studiando, anche voi sapete, che mancando uno o due consiglieri che vengono riconosciuti incompatibili, oltre quelli che già sono incompatibili, c'è il rischio che il piano regolatore non possa andare in Consiglio Comunale, dovrà essere approvato da un commissario. L'altra cosa di cui ci si lamenta è questa storia della visita nella vallata Santa Domenica. A farne, così a segnalarlo, è il consigliere Firringeli, che dice ma questa associazione di reazione della Cusa, che è quella del Sindaco, che vuole fare queste visite, che ha già rinviato per il maltempo, che non può andare in certe zone perché ci sono i cantieri, non potrebbe aspettare. Io dico, facciamo in modo che questo lavoro venga concluso tutto, e così effettivamente si può cominciare a visitare, a fare progetti su come si deve visitare la vallata, che sarà sicuramente una bellissima cosa. Noi l'abbiamo sentito parlare dall'assessore che è venuto qui in studio, ci siamo un po', come posso dire, non preoccupati, l'abbiamo detto, ci sono tanti soldi spesi, questi sono altri 7 milioni e già ne avevamo spesi, insomma la vallata ha un costo, a questo punto dovrebbe essere così fruibile come se fosse una sala da tè, comoda, con le poltrone, dovrebbe essere un posto particolarmente bello, cosa che a quanto pare così non è. Allora, Firingeli lo richiede. Allora, diciamo che ne parleremo nei prossimi giorni, ora c'è il primo maggio, e poi si entrerà nella campagna elettorale per l'Europe, già avete visto quanti movimenti ci sono. Invece io chiudo con le immagini di San Giorgio di Modica, voi sapete che a Modica la festa si svolge la prima domenica dopo il 23 di aprile, che è la giornata, la festa di San Giorgio, cioè è proprio la ricorrenza di San Giorgio. A Modica, naturalmente, è il copatrono come, perché anche loro hanno lo stesso problema, perché l'altro padrono sarebbe lo piacere, Paolo. Queste sono immagini che abbiamo preso da internet della uscita di San Giorgio, e poi la tradizionale corsa avanti e indietro sul Sagrato, e devo dire che è sempre una bellissima immagine, ci vuole molto coraggio. L'altra volta abbiamo parlato con i portatori, che sono molto preparati, molto attenti, perché sanno come si deve gestire questa statua, che pesa, pesa, ma che soprattutto è portata a spalla da tante persone, se non camminano tutti con lo stesso passo, si capisce che potrebbe essere davvero rischioso. Mi ricordo che la festa di San Giorgio, invece, di Cerragusa si farà a fine maggio, 25, 26, 27 maggio, e noi stiamo preparando una trasmissione che si chiama Aspettando San Giorgio, è un programma settimanale che poi lo possiamo anche ampliare, non è un grosso problema, si tratta di mettere insieme tante notizie sulla festa, e anche dal punto di vista dell'organizzazione, di appuntamenti, ha come sponsor naturalmente il Comune di Ragusa e altri sponsor locali. Di questo ne parleremo di più nella prossima settimana, dopo che faremo le prime registrazioni, e decideremo di mandare in onda praticamente, ogni venerdì sicuramente. Ma poi anche faremo una registrazione, anche di più, manderemo in onda più volte questo programma, che si chiama appunto Aspettando San Giorgio. Bene, grazie appunto Regia per queste immagini. Ora parliamo di sport, perché è stata una giornata, però non molto fortunata, per le nostre squadre, per le squadre ragusane. Questo capita ogni tanto, c'è quando va bene e c'è quando va male. Gianni Papa quindi ci parla di sport, io vi ringrazio per l'accortezza e attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Una domenica importante per le due delle tre maggiori squadre ragusane, perché la Virtus giocherà domenica la cara della fase successiva degli spareggi contro gli Svincolati Milazzo. Allora ieri hanno giocato il Ragusa e la Passalà, quando entrambi perso cominciamo da Ragusa, ma prima di cominciare dagli azzurri, ricordiamo che con molto piacere salutiamo la promozione in prima categoria del Ragusa Boi, se hanno vinto il loro campionato di seconda, è sicuramente un successo importante, è anche la dimostrazione che si lavora bene, si può lavorare bene con i giovani, e che quindi Ragusa, oltre ad avere la Serie D, oltre ad avere la promozione, avrà anche la prima categoria. Complimenti ai ragazzi del Ragusa Boi. Dicevamo del Ragusa, a Sant'Agata c'era in palio la possibilità dei play-off, per quello che possono valere. Ora, io ho sentito qualche minuto della telecronica, il cronista, il telecronista di Sant'Agata ne parlava come se andare in play-off fosse come andare in semifinale o finale di Coppa dei Campioni, sempre supponendo che ci si arrivi, sono una cosa abbastanza inutile, forse il termine esatto è quello, perché, ripeto, io non ricordo di scuare promosse alla Serie successiva, nel caso particolare alla Serie C, grazie ai play-off, ci sono alcune, alcune sono state promosse per vari motivi, ma nel quale il fatto di play-off era molto relativo. Comunque, il Ragusa ha perso l'occasione di poterci andare per un rigore nato da una papera difensiva colossale, da uno sciagurato passaggio indietro, il rigore a mio avviso era anzi molto discutibile, comunque è stato battuto, è stato messo a segno, e poi il Ragusa ha provato a rimontare, onestamente, senza dannarsi l'anima, finito lì. In ogni caso il Ragusa arriverà tra sesta, settima, forse ottava, ma il campionato è sempre di alto livello, perché la squadra ha fatto 50 punti, il Ragusa non gioca domenica, perché riposi in un campionato partito strano, combinato ancora peggio, c'erano stati problemi all'inizio della Regina, poi la Mezzia è scomparso su Asponte all'improvviso, il resto è il fatto che il Ragusa ha disputato un ottimo campionato, la società ha messo a disposizione di un ottimo staff tecnico guidato da Giovanni Gnoffo, con Puma come secondo, ma tutto il resto dell'apparato, i vari direttori erano notevoli di qualità, gente che ha lavorato molto seriamente, molto professionalmente, i giocatori sono stati bravi, qualche problema all'inizio, qualcuno è stato ribandato a casa, perché onestamente non sembrava che potesse rendere molto, quelli che sono rimasti o quelli che sono arrivati sono stati molto bravi, sì, sono stati lanciati una serie di giovani importanti, devo dire che è una stagione sicuramente soddisfacente, della quale è importante, non perdere il ricordo, e sulla quale è sicuramente importante, ma questo sono certo, che da parte della società, dal Presidente Puma e di tutti gli altri, ci avranno già pensato, perché sicuramente su queste basi si può impostare una società in grado, non tanto e non solo, se e quanto si deciderà di puntare al campionato professionistico, non ne ho idea, in quel caso il salto sarebbe notevole, anche e soprattutto sotto il profilo economico, ma di impostare una squadra e una società, che è sempre la cosa più importante, in grado di vivere tranquillamente, senza avere più quegli alti e bassi che hanno caratterizzato, ahimè almeno, voglio dire poco, una ventina di anni, ventina abbondante, di anni della controversa, complicata, difficile, in alcuni momenti, anche squalificante, storia del Ragusa Calcio. Questo Ragusa Calcio, con questa società, prima ha vinto il suo campionato, con un'imbattuta, unica imbattuta, ha vinto anche la Coppa Sicilia, il primo anno, è rimasto in Serie B, arrivando in Serie D, arrivando al dispareggio, solo perché è calato nel finale, poi ci fu quella barzelletta, con il pretendente, altrimenti, della sua squadra della Versa, ha superato quello, quest'anno il campionato, è stato tranquillo, fin dall'inizio, e si poteva arrivare anche a playoff, e sono stati sfiorati, quindi, complimenti ai ragazzi del Ragusa, complimenti ai Ragusa Boys. Per quanto riguarda la Passa all'acqua, a proposito, devo dire che, abbiamo anche da parlare di Ragibi, perché ha acquisito il diritto, ad andare nella fase finale, di spareggi per la B, ma di Ragibi parleremo domani, perché abbiamo il presidente, il mandinatale. Per quanto riguarda la Passa all'acqua, la Passa all'acqua ha dimostrato, che purtroppo, per una serie di motivi, quando si arriva a certe partite decisive, lo ricorderete nel primo, spareggio per la promozione, per lo scudetto, quando arriviamo alla possibilità di chiudere il conto, beh, è come se si spegnesse la luce. Ieri è successo praticamente la stessa cosa, la Vintus è battuta con tanta fatica, e tanto merito, all'andata sul suo terreno a Bologna, ieri ha passeggiato qua, e Ragusa non è praticamente mai stato davvero in partita, tranne che in qualche momento, in cui si è rinvicinato fino a 7 punti, è partito 12 sotto, poi sono arrivati addirittura 22 punti di scarto, ma questi lasciano il tempo che trovano. purtroppo invece siamo costretti ad andare a gara 3, quando si sarebbe dovuto provare a chiudere il conto qua, tra l'altro ancora una volta è mancata Laura Spera Figo, i contro avversari, invece che hanno visto ancora gente come Sicilia Zandalazzini, elemento fondamentale, giocare ai suoi livelli, quando a te manca una giocatrice come la capitana della nazionale, quando una super cannoniera come la Cidom fa solo 3 punti, vuol dire che è proprio la giornata che non va, purtroppo è stato così, però come dice giustamente Coscerino Lardo e il suo vice romano, come dico la giocatrice, come dice tutto l'ambiente, partita finisce quando finisce, quando arbitro fischia diceva Vujedin Boscov, quindi riandiamo a Bologna, le abbiamo già partite una volta, possiamo provare a farlo di nuovo, certo non sarà facile, anche perché ora loro ci hanno sgamato sotto certi profili, ma spero, penso e spero, che loro possano pensare che il discorso è chiuso, credetemi non lo è, la passa l'acqua non 7 ma 27 vite, quindi ne ha tre volte più dei gatti e se quando le sue giocatrice giocano anche contro una squadra formidabile, che c'è gente davvero di livello stratosferico, sono in grado di dire la rolla, l'hanno già dimostrato battendo due volte Bologna a casa sua, quindi staremo a vedere, certo il dispiacere rimane, certo l'occasione era, ed era grossissima, Schio può anche avere, aveva già da prima di questa partita prenotato il pullman per Bologna, secondo me è stata lievemente in anticipo sui tempi, ma sarebbe bello che così fosse dimostrato, al momento è solo una speranza, resta il fatto che onestamente, ieri la passa l'acqua, ha reso molto meno delle attese, è come se si fosse trovata bloccata, e quando era riuscita a scendere a 6 punti, si era riportato 8 punti dall'inizio del terzo tempo, entrando da riposo lungo, ma quando tutto con un minuto e mezzo, vai da 8 cali di nuovo a 16, quindi vuol dire che c'è qualche cosa che non va, e di fatti poi tutto il resto della partita è stato un proseguo sulla stessa falsariga, poco male diciamo, facciamo finta che sia poco male, comunque prendiamone atto, anche perché non avremmo altro da fare, si gioca domenica, anzi si gioca il primo maggio, e sono certissimo che Milazzo e compagno, mi auguro ci possa essere anche l'Arospreafico, non lo so, venderanno non cara, ma carissima la pelle, questo è l'augurio di tutti gli sportivi di Ravusa, qualunque sia il loro sport, e credo anche un po' di tutta la Sicilia, perché resta il fatto, al di là di tutto, che mentre nel campo della Pallanestro abbiamo e abbiamo altre realtà siciliane validissime, e la Virtus è sicuramente una di queste, ricordo che la Virtus è il gioco domenica, nel campo della Pallanestro, della maschile, nel campo della Pallanestro femminile, la passa l'acqua è una e sola, è il faro, e sarebbe molto bello che questo faro potesse continuare a splendere, staremo a vedere per il momento, vi saluto. Finestre e Clip Finestre e Clip Finestre e Clip La grandezza del minimalismo La grandezza del maggiore Banca agricola popolare Tiragusa Una storia orientata al futuro Fattoria delle milizie Un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La fattoria delle milizie che si trova a Scicli a 500 metri dal convento della Madonna delle milizie grazie al suo allevamento di capre è specializzata nella produzione di formaggi caprini biologici al latte crudo Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo ma anche un pregiato riso del Piemonte Tutto consegnato in poche ore a casa vostra Alla fattoria delle milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari Tutte le informazioni a info-sisagro.it Osservatorio sportivo è offerto da Eco Green Risparmia sulle bollette di casa con le offerte del Mercato Libero Grazie a tutti 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 Grazie a tutti